Da consigliere comunale ho voluto affrontare la problematica della precarietà di circa 330 unità lavorative ex TCT Evergreen che giustamente chiedono una sicurezza occupazionale. Sicurezza occupazionale vuol dire almeno 18 mesi di cassa integrazione ma anche una stabilizzazione attraverso i vari strumenti. E do atto della disponibilità immediata del presidente del sistema dell'autorità portuale, Sergio Prete, l'avvocato Prete, proprio perché si tratta di una problematica che afferisce al territorio. Già viviamo male a Tarano con tante problematiche. Il porto deve essere la nostra ricchezza. Sì, noi siamo molto sensibili a questa vertenza e proprio in questi giorni abbiamo avuto una serie di incontri e quindi mi ha fatto piacere informare il consigliere Abate e una delegazione di lavoratori sui passi che stiamo compiendo. C'è una sinergia a livello istituzionale, a livello di parlamentari, di sindacati nel chiedere una proroga dello strumento legato all'Agenzia del Lavoro che accompagni l'arrivo, l'insediamento, lo sviluppo delle attività portuali al reinserimento di questi lavoratori. Quindi ci sono delle attività più immediate che avremo nei prossimi mesi ed altre un po' più a medio termine e quindi questo strumento è importante proprio per accompagnare i lavoratori. Nell'incontro che abbiamo fatto pochi minuti fa abbiamo anche, così ho fatto una domanda, ma quale potrebbe essere la tempistica, il sogno, tra virgolette, di vedere finalmente queste persone stabilizzate, serene? E mettiamoci dieci punti interrogativi, tre anni non sarebbe una cosa impossibile. Sì, perché alcuni interventi sono immediati, faccio un esempio, un'implementazione dell'occupazione sul terminal contenitori e la gestione della piattaforma logistica. Gli altri interventi, anche legati alla ZES, prevedono la realizzazione di infrastrutture e quindi è necessario purtroppo attendere la realizzazione di queste infrastrutture prima che le società possano chiamare i lavoratori. È giusto ascoltare i lavoratori che sono proprio gli attori di questa vicenda. Io ho raccolto nel mio piccolo questa problematica, ho voluto affrontarla nelle sedi competenti. Ho anche detto, il Presidente si è dichiarato disponibile, di creare degli incontri periodici per monitorare un po' l'andamento della cosa e eventualmente coinvolgere, come è giusto che sia, le commissioni consigliari del Comune di Taranto, il Consiglio Comunale, l'organo consigliario. Allora, abbiamo fatto questo incontro. Come vi sentite? Senti, ringraziamo il Presidente Apriete delle rassicurazioni che ci ha dato sui nostri 330 lavoratori che attualmente sono in cassa integrazione. Ci ha esposto un po' lo sviluppo territoriale anche ecosostenibile, speriamo a breve termine. E niente, siamo fiduciosi, andiamo avanti. Dopo dieci anni si vede la luce, almeno uno spiraglio. Io dico che, tra virgolette, uniti si vince, nel senso che se noi affrontiamo i problemi del territorio, io ho voluto capire, bisogna capire, vedere gli ostacoli, vedere le difficoltà e stabilire un percorso per portare il risultato. Qui non è questione di fare, ripeto, un intervento al di sopra delle parti. Voglio, da essere umano, prima ancora che da consigliere comunale, che queste persone vivano una serenità che meritano. Credo che l'unità di intenti sia fondamentale ed ha portato in passato anche ai risultati che abbiamo ottenuto. Non ci dimentichiamo che questo strumento a tutela dell'Agenzia è stato innovativo ed unico in Italia e quindi noi dal lato nostro cercheremo di anticipare e accelerare tutti i processi, anche quelli formativi, nella speranza appunto che oltre alle attività già programmate e che conosciamo possano anche arrivare ulteriori iniziative e che il lasso temporale possa addirittura restringersi. Bene, Presidente, io la ringrazio per la disponibilità. Ringrazio anche voi perché è bello che questa terra, tanto bistrattata, veda una luce all'orizzonte.